Una jam session di fine estate sull'epoca del jazz, per una serata con la grande musica dal vivo ancora una volta alla casa dell'energia di Erizzo. Grazie a Warehouse Decibet Festival che ha permesso di nuovo la creazione di questo evento musicale. Questa jam session tra l'altro con musicisti aretini che sono arrivati e stanno suonando qui nel cortile in maniera estemporanea. Davvero un esempio di arte e musica veramente frizzante. In scena un trio formato da tre giovani talenti del jazz toscano, Santiago Fernandez al pianoforte, Francesco Sarrini al contrabbasso e Giovanni Paolo Liguori alla batteria. Con Francesco Sarrini, contrabbassista, già lo conoscevo da un po' di anni, qua sempre nell'interno del circuito aretino con le jam session e tutto. Però era un po' che non suonavamo insieme. Lui ho avuto il piacere di conoscerlo un mese fa. Abbiamo suonato con il Jazz on the Corner Open Orchestra, con Fabrizio Bosso ospiti. Abbiamo fatto un bellissimo concerto all'interno della rassegna all'anfiteatro. E niente, è stata la prima volta che abbiamo suonato insieme. E quindi appunto poi è capitata questa cosa qua. Sempre con Jazz on the Corner, la casa dell'energia e tutto. Cioè è nata questa situazione di suonare in trio. Ci siamo trovati subito. Ognuno ha messo insieme il proprio background. Abbiamo proposto dei brani, sia originali che non. Ed è nato quello che avete sentito stasera. È stata un'esperienza molto bella. Spero sia la prima delle tante che faremo insieme. Spero sia la prima delle tante che faremo insieme. Se trovi quando fai insieme è honey. Per te farmo insieme. Attendolo sia la prima delle tante che faremo ris greffekciarie.